Aiuto! Da dove viene questo suono? Che bella bambina! Vuoi diventare nostra figlia? Ci sono cascati! Ha funzionato! Voglia di dolci! La melma di Lulilalu! Aggiungi delle caramelle! Dagli una bella mescolata! Riempi lo stampo! Decora con le fette! Quale adesivo scegliere? Scrivilo nei commenti! Ritaglia il secondo! La dolce marmellata è pronta! Mh, gnammi! Figlia, siamo a casa! Una bambina! È Lali, la tua nuova sorella! Ciao! Marmellata, ne voglio un po'! Solo un secondo, tesoro! Candy, devi darla a tua sorella! No, è mia! Dagliela! Ecco qua, Lali! Non è giusto! Buonissima! È viscida! C'è qualcuno? Chi c'è? Attenzione, il pavimento è scivoloso! Oh, apro! Chi sei? Io e il principe ci amiamo! Lali è nostra figlia! Tesoro, ci deve essere un errore! Oddio! Oh, sei bellissima! Posso baciarti la mano! Papà, cosa sta succedendo? Sono la tua matrigna! Sì, tesoro! Non mi piace! Tu e Lali diventerete amiche! No, non voglio! Ciao, mamma! Andiamo nella stanza dei bambini! Mettiti comoda! Questa è la mia stanza! Non più! Cosa stai facendo? Un piccolo riassetto! Voglio anch'io la mia casa! Questa è per te! No, non è carina! Cosa posso fare? Lali lupo a aiutarti! Gira la ruota! La principessa Lulilalu! Prendi il secchiello! Scegli il fondo! Istruzioni! Prima gli occhi! Ritaglia le caramelle! Argilla leggera! Smalto! Direttamente nella lampada! Più colore! Metti le ciglia! Ora i capelli! B-Flex rosa! Scegli uno strumento! Usa una macchina da cucire manuale! Oh, strass! Bellissima! E la corona! Gomma piuma dorata! Ora la bocca! Cuscini! Ce l'abbiamo fatta! La casa della principessa è pronta! Tesoro, questa è per te! Sì, grazie papà! Andiamo tesoro! Oui, super! Sarà mia! Tu hai la tua casa! Adesso ne ho due! Candy ha qualcosa in mente! Ehi, tu! Gelato! Mi nasconderò qui! Cosa sono quei cuscini? Candy? Prendi questo! Vattene da qui! Restituiscilo! Beh, se vuoi! Lali ha recintato tutto! Divieto di ingresso! Non è giusto! Assolutamente no! Così non va! Nessuna stupida regola! Finisci! Mamma! Chi è stato? Candy! Pulisci velocemente! Candy viene con me! Perché? È il giorno della mamma! Non piangere, tesoro! Andiamo! La mamma ha salvato Candy dalla punizione! Ehi, è Jax! Prendi un po' di argilla polimerica! Crea un corpo! Scegli un colore! Dipingi! Feltro giallo! Ritaglia le mani! Lali cadabra! Fonpon glitterati! In negozio! Scegli un giocattolo, tesoro! Ti do 100 lali dollari! Grazie, mamma! Cosa scegliere? Ecco i giocattoli! Ci stai seguendo? Io? Seguire voi! Lali, ecco qua! Grazie! Wow, quante cose! Che denti! Ne ho abbastanza! È il signor Jax! È il mio sogno! Ti amo, cara! E io amo te! No, non ne ho abbastanza! Eh, ci sono! Ne ho più bisogno io! Prendi questo? Sì, ecco i soldi! Congratulazioni per l'acquisto! Hai scelto? Dove sono i miei soldi? Sono spariti! Mi dispiace, ma non potrei comprarlo! Sono stata derubata! Non piangere, tesoro! Pommi? No, è colpa di Candy! Non litigate! Andiamo al centro commerciale! Andiamo, figlia! È tempo di fare scratch! Argenta al coperchio! Fissa gli altoparlanti! Dei bei pulsanti! Ampio schermo! Balliamo! Mobili vecchi! C'è qualcosa che potremmo usare? Un cartello dai colori vivaci! Piattaforma da ballo! È l'ora della festa! Benvenuti nella sala giochi! Wow, da dove cominciare? Guarda, c'è un! Permettatevi di presentarvi il nostro nuovo prodotto! Just Lally Lou Dance! Voglio provare! Che la battaglia abbia inizio! Prima io! Uno a zero! Il tuo biglietto! Brava! È il tuo turno! Va bene! Ci proverà! Candy è una ballerina fantastica! Wow! Break dance? Grazie! Che risultato! Sono tanti biglietti! Congratulazioni! Bastano per farti vincere il premio! No! Mamma, avrei dovuto vincere io! Sistemeremo tutto, tesoro! Invertiamo i numeri! E i biglietti sono miei! Ecco il tuo! What? Errore! Ragazza, questo è tuo! Ben fatto! Ma non è giusto! È una truffatrice! Wow, uno zaino! E questo è tuo! Ciao, ciao! È ora di andare a scuola! Bye! Siamo arrivate! Facciamole uno scherzo! Ehi, cos'è? È il mio zaino! Nessuno lo userebbe mai! Ma non ne ha un altro! Cappola! Sarei seduta lì! Buon soggiorno! Metti un like per liberarmi dalla gabbia! Lasciatela andare! Yes! C'è qualcosa anche per te! Giochiamo all'aereo! No, non farlo! Buon volo! Ah! Il tuo zaino! Ciao! Sei sicuro di aver cliccato su mi piace? Sì! La gabbia non c'è più! Lali resisti! Dobbiamo aiutare la bambina! Maniglia del gioco per saltare! Ecco ciò di cui abbiamo bisogno! Magia del lecca lecca! Ritaglia in un cerchio! Puce alla base! Bordo morbido! Decora! Avvolgi con il pizzo! Aggiungi le gambe! Avanti! Aiutala! Salta sul trampolino! No! Ho paura! Vieni! Adesso un momento! Ti prendo! Oh no! Sto cadendo! Presa! Ho dimenticato lo zaino! Questo è un caso da professionista! Geronimo! Oui! Sei la mia eroina! Non c'è di che! Andiamo a casa! Mamma! Papà! Siamo a casa! Com'è andata a scuola? Candy mi ha salvata! Oh oh! Qualcuno ti ha sforcato! Che schifo! Pulisci immediatamente! Non mi volete bene! Sono stufa! Me ne vado! Lali Lu! Aiutami a trovare mia mamma! Serve un volantino! Uno non basta! Dieci coppie! Ecco qua Candy! Grazie! Vado! Ehi! Non è tutto! Un pennarello! Togli il tappo! Copri con l'acrilico! Aggiungi un beccuccio! Il logo Elmer! Ho dimenticato la colla! Ne avrai bisogno! Mamma dove sei? Ti troverò! Lo attaccherò qui! Ne servono altri! Mamma! Hai visto la mia mamma? Non la ricordo! Forse sapete qualcosa! No mi dispiace! E tu? Candy? Mamma! Sono scappata di casa! Adesso staremo insieme! C'è un ladro che passa di corsa! Ehi! Questo è per te! Wow! Soldi! Siamo ricche! Fermi! Non muovetevi! Non è colpa nostra! Corri! Dove possiamo nasconderci? Oh! Non c'è niente qui! Presto! Laggiù! Chiuso! Ah ah! Eccovi! Sali sull'albero! Ti aiuto io! Sbrigati! Mi arrendo! No! Ti salverò! Prendi questo! Cosa sta succedendo? Ho solto! Premi mi piace! Così arriveranno le ciambelle! Ehi! Guarda! Sono così appetitose! Buonissime! Le voglio tutte! Gli agenti di polizia adorano le ciambelle! Da questa parte seguimi! Oh! Ancora! Ha funzionato! Lali ha attirato la polizia in una trappola! Lali Lu mi serve un martello! Un momento! Prendi le candele! Blu e rosa! Attacca mezza perlina! Colorala! Wow! Lego! Metti pezzi! Oh! Cos'è? Ora la scatola! Prendi l'acrilico! Smalto trasparente! Asciuga nella lampada! Incolla alla base! Decora con un pompon! La P sta per Fommie! Ed ecco qua lali! Wow! Yay! Mmm! Oh! Quante! Ne voglio una anch'io! Le ciambelle sono mie! Fregato! Ti prendo! Ti prendo! Grazie per averci salvate! Sei una brava sorella! Ciao! La Lili Lu mi serve una torta di compleanno! Certo tesoro! Prendi uno stampo! Un po' di argilla leggera! Rosa e bianca! Base di biscotto! Pizzo color crema! Confette di perle! La ciliegina sulla torta! Ecco qua Lu! Grazie! Torta della riconciliazione! La torta è mia! Me la merito! È per tutti! Ridammela! No! Lasciala andare! Oh no! Pommie! Attenta a te! Oh oh! Devo scappare! Pommie! Fermati! Ops! Mi dispiace tesoro! Fatto! L'ho presa! Adesso mi occuperò di te! Vieni qui! Yes! Lancio! Fai buon viaggio! Ti amo! E io amo te! Siamo tornati insieme! Gnam 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 gnam! Cos'è questo rumore? È il mio telefono! Pronto? Ops, scotch! Hai bisogno di una super sata! Sto arrivando! Eccomi! Lulilalu! È fantastico! Divertitevi! Perché l'hai fatto? Tata cattiva! Deve andarsene! Eh no! Abbiamo un contratto con lei! Andrete d'accordo! Giochiamo, piccola! Vuoi vedere cos'ho? Guarda! Una morbida piuma! Cosa faremo? Il solletico! No! Non è divertente! Devo nascondermi! Ci è mancato poco! Ora tocca a te, Lulilalu! Centro! Valigia! Dieci anni senza telefono! E niente cartoni animati! Bene, 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 piccolina! Come stai? Mamma, fammi giocare! Non è ancora il momento! Ok! Ho un'idea! Abbiamo bisogno di una pancia finta! Prendi un Kinder Joy! Taglia le metà! Scegli una vernice! Prendi dei brillantini! Glitter! Copri con lo smalto gel! Ora nella lampada! Applica il testo! Devo nascondere Candy! Tieni! Grazie! Non essere triste, tesoro! Questo è per te! I miei dolcetti preferiti! Ti vogliamo bene! È ora di andare! Bye bye! Cosa abbiamo qui? Ora è mio! Ridammelo! Lascia andare il cestino! Mettila! Me lo hanno dato i miei genitori! Vai via! Cos'è successo? Mamma! Papà! Non può essere! Quei dolci sono per Teddy! Sei licenziata! Ma io sono... Aspetti un bambino? Oh my God! Stai bene? La mia pancia! Ed ecco che arriva Candy! Che dolce piccolina! Semplicemente adorabile! Resta con noi! Perché? Papà! Mamma! Sono io vostra figlia! Non mi notano nemmeno! Realizziamo un giocattolo! Ritaglia i pezzi! Cucili insieme con il filo! Riempi il giocattolo! Perfetto! Trova dei fili di ciniglia! Torci le estremità! Pom pom! L'ali cadabra! Quelle sono le mani! Attacca alla base! Una faccia carina! Un cuore tenero da abbracciare! Vieni da me! Cosa sta facendo? Teddy e il cuore sono ormai inseparabili! Un giocattolo! Lo voglio dammelo! Il mio cuore! Ridammelo! No! Fermati! Dove è andata? Cucù! Ti prenderò! Teddy ha costruito una scala! Ci sono quasi! Candy! Prendi questo! Lascialo andare! È mio! Cosa sta succedendo? Chi è stato? Ops! Oh no! È colpa di Teddy! È ora di pulire! Ma non sono stata io! Questo è per te piccolina! Assolutamente no! Non mi arrenderò! La pagherai per questo! La Lelu guarda! Una giga ape? Grande idea! Abbiamo bisogno di miele! Aggiungilo alla pentola! Modella il corpo! Occhi a mezza perla! Applica le strisce! Prepara le ali! Ora le antenne! Pronto a volare! Attenzione, Bulle! Vi presento il mio amico ape! Cosa? Sono Zack! Vai amico! Vedo il bersaglio! Oh no! Zack! Non sono affatto dolce! Controlliamo! No! Metti via il pungiglione! Vuoi un po' di gelato? Cosa? Adesso pungila! Ok! Zack! Sono io! Ricordi! Help! Siamo amici! Ottimo lavoro! Cosa è tutto questo rumore? Chi ha fatto questo casino? Ciao piccola ape! Chi l'ha portata qui? Eddie! Vai nella tua stanza! Ora! Non è giusto! Sono tutti contro di me! Devo tenere d'occhio la tata! L'orsacchiatto andrà benissimo! D'accordo! Rimuovi il fiocco! Scegli uno strumento! Tira fuori l'imbottitura! Prendi dei cavi! Nascondili dentro! Rimuovi la lente! Inseriscila al posto di un occhio! Decora l'orsacchiotto! Per Candy! Come sta il mio orsacchiotto? Pronto per spiare? Perfetto! Sono tutti qui! Candy, questo è per te! Wow! Carino! Rispolvero un po'! Quanti soldi! Li prenderò io! Il mio salvadanaio! Teddy, vieni qui! Pulisci! Hai retto il salvadanaio! Hai preso i miei soldi! Vieni con me! Ho fame! Mamma! Un minuto, tesoro! Tutti i dolci della casa! Yummy! Apri la bocca! Candy ha un grande appetito! Ma chi laverà i piatti? Ma chi laverà i piatti? Sono qui! Ora pulisci i piatti! Ma perché io? Basta! Restituisci il giocattolo! Non te lo meriti! Mamma! Non piangere, tesoro! Ci sono cascati! Mi connetto! Cerco il video! Cosa sta facendo? Mamma! Papà! Devo sbrigarmi! Genitori, venite! Dovete vedere! La tata è cattiva! Ecco la prova! Lulilalu ha fatto del suo meglio! Altri dieci anni senza telefono e senza cartoni animati! Me ne vado di casa, visto che non mi credono! Sarò meglio senza di loro! Ma dove sono? Oh, cos'è? Devo guardarmi intorno! Forse troverò qualcosa di utile! Perfetto! Costruirò una casa! Wow! Mi piace! Ma mi sta venendo fame! È ora di cercare del cibo! Cos'è? Sembra che abbia trovato qualcosa! Un anello! Prendilo! Scegli un colore! Rosso! Posizionalo sulla base! Taglia un po' di formaggio! Attaccalo sui lati! Una foglia di lattuga! Un meccanismo di ricerca! Prendi una cannuccia! Crea un manico! Avvolgi con il filo! Ora possiamo trovare facilmente il cibo! Cerchiamo! Ancora un po'! Penso che ci sia qualcosa qui! Un crocione! Vai via! Vai via! Sono riuscita a scappare per un pelo! Continuerò la ricerca! Che è trovato! No! Ehi! Ridammelo! L'ha portato via! Che sfortuna! È qui! Strano! Spresa! Verrai con noi, tesoro! Lasciami andiamo! Io sono Groot! Grazie per il bastoncino! Lo dipingeremo di rosa! Preparane alcuni! Attacca i lati! Unisci i pezzi! Cannucce! Argilla leggera! Decora la parte superiore! Ora gli zuccherini! Inserisci lecca lecca! La dolce gabbia di Lulilalu! Teddy, siamo arrivate! Vieni qui, tesoro! Lasciami andare! Nessuno può sentirti! Vieni qui! Cosa mi succederà? Lo scoprirai presto! Andiamo! Va bene, mamma! Teddy è intrappolata! Miei genitori mi troveranno! Come no! Non annoiarti! Andiamo, figlia! Bye, bye! Teddy! Siamo a casa! È ora di svegliarsi, tesoro! Cosa? È stata rapita! Oh no! Come? Cosa facciamo ora? Guarda, c'è qualcosa qui! Dobbiamo controllare! Ecco il vero video di sorveglianza! Aveva ragione! La tata è cattiva! Figlia, eccoti! Ti salverò, mia piccola Teddy! Papà è forte! Mamma! Lasciami togliere questo, tesoro! È stata lei! Lo sappiamo, tesoro! Perdonaci! Ha funzionato! Ma ora al lavoro! Aspettate a festeggiare! Ed ecco i loro tesori! Chiuso? Strano! Cosa fare? Andiamo dalla Lillu, mamma! Ci serve un piede di porco! Al lavoro! Arrotola in un tubo! Stendi l'argilla polimerica! Un pezzo bianco! Intrecciali! Piega entrambe le estremità! Argento! Va bene? Ma potrebbero riconoscerci! Ci servono i passamontagna! Prendi un calzino! Taglialo a metà! Fai dei buchi! Super! Provalo! E uno per te! Andiamo, figlia! Adesso siamo delle dolci bandite! Sì, siamo una banda! Come si usa questa cosa? Mamma, io credo in te! Apriti! Ora funzionerà! Ancora un po'! Non ha funzionato! E se provassimo in un altro modo? Bimba mia! Andiamo! Ed ecco un milione di Lali dollari! Bandite al lavoro! Quanti cioccolatini possiamo comprare? Adoro i diamanti! Prendiamo tutto! Aha! Beccate! Un'altra prova! Chiamo la polizia! Figlia, nascondiamoci! Oh, ciao! Posso stare accanto a te? Mamma, e io? Tutti immobili! Polizia in azione! È questa la ladra? Sembra di no! Ecco la criminale! Oh no, Candy! Sei in arresto! Sei sicura di essere una statua? Controlliamo! Come chi ama la mela un verme? Casa dolce casa! Ops! Via! È ora di cominciare! Servi! Sì, mia principessa! Al tuo servizio! Primo concorrente! Stiamo aspettando! Il mio piatto forte è pizza! Buon appetito! Eww! Per me è no! Il prossimo! Oh no, che peccato! Che puzzo! Secondo concorrente! Ti piacciono i trucchi di magia? Te ne mostrerò uno! Seguiamo a metà! Smettila subito! Svergognato! Ma scalzone! Torna subito a casa! Aiuto! Che coppia! Un bouquet per la principessa! Hanno un profumo così buono! Ora canto! Spostati! Chi è il più ricco del paese? La principessa delle caramalle! Ce l'hai fatta! Evviva! Ehi, fermo! Prima devi regalarmi una corona! Ok! Oh, gelato! Yummy! Ho un'idea! Grande! Facciamolo! Ritaglia la cialda! Premi il gelato! Aggiungi i coni! Prepara gli zuccherini! Aggiungi una perlina! Posiziona su un cuscino! Wow! Una dolce corona! La voglio! È costosa! Comprala, comprala! Spenderò tutto quello che ho! Quanto? Ma riesci a vedere il prezzo? Mani in alto! Questa è una rapina! Cosa? Polizia! Presto! Non c'è molto tempo! Oh, chi è? Calmati! Sono io! Oh, fantastico! Prendiamo la corona! Presto! Fermati! Non puoi scappare! Oh, la corona! Penso che mi starà bene! Sei in arresto! Mostra la tua faccia! Verrai con noi! Ladro! Ma avanti! Facciamo una foto! Catna penne i guai! Oh, mio Deus! Ecco la mia impronta digitale! Adesso mettiti le manette! Siediti e pensa, amico! Oh, no! Il mio amore è in pericolo! Cosa faccio? Non piangere! Ti aiuteremo! Thank you! Facciamo un trapano! Rimuovi gli anelli! Dipingi il cono! Rivesti con la vernice spray! Una punta appuntita! Ecco la consegna! Scarica! Incolla le ruote! Prepara lo stand! Installa la punta del trapano! Pannello di controllo! Il trapano ci aiuterà a liberare Catna! Che attrezzatura seria! Facciamolo! Ti salverò! Wow! Sta succedendo qualcosa di interessante! Oppia è determinata! Yuhu! Ce l'ha fatta! Ottimo lavoro! Sperma lì! Devo nascondermi! Libertà! Principessa! Amore mio! Ti ho salvato! Lasciami in pace! Non mi ama! Bene! Mi vendicherò di lei! Mi serviranno le ciambelle! Sono troppo in alto! L'alilu ti aiuterà! Versane un po'! Prendi un anello! Friggilo nell'olio! Ottimo! Ricopri di glassa! Dipingi! Facciamone quattro! Prepari la stampa! Ritaglia con cura! Aggiungi una carota! Decora con i cuori! Apri la scatola! E metti la fodera all'interno! Ecco qua, Hoppy! Thank you! Aiuteranno chiunque a innamorarsi! Chi dovrei scegliere? Loro andranno bene! Cominciamo! Pozione d'amore! Ne aggiungo un po'! Fantastico! È ora di servire! Volete delle ciambelle? Wow! Le mie preferite! Gnom gnom! Sei così bello! Funziona! Ci abbracciamo! Ehi ragazzi! Cosa? Dove? Che bellezza! Wow! Seguitemi! Ok! Oh! Let's go! Come vuoi tu! Wow! Vieni giù! Ho bisogno di una rivista! Good! Attenzione! Guardate! Innamoratevi di lei, capito? Sì! Tesoro! Ora andiamo! Abbiamo bisogno di bandane! Ehi! Riprendetevi! Prendi le misure! Posiziona il modello! Scegli lo strumento! Ritaglia con attenzione! Attacca un nastro! Ecco il travestimento! Ora non ci riconoscerà! Dov'è la nostra principessa? Seduta sulla panchina! Sei così bella! Oh my gosh! Non toccarla! Sarà meglio nascondersi! Che lotta! Nessuno vuole arrendersi! Lei è nostra! Dov'è andata? Cosa sta succedendo? Ti amiamo! Tesoro, dove sei? Presa! Andiamo! Lalilu, aiutami a trovare la principessa! Oh, lecca lecca! Prendi una caramella! Falla splendere! Installa il sensore! Scegli una cannuccia! Attorciglia con attenzione! Prendi una cordina! Aggiungi un pannello! E una comoda maniglia! È pronto? Ecco qui! Con questo troverò sicuramente la principessa! Andiamo! Penso di aver trovato qualcosa! Yuhuu, è qui! No, è una festa di compleanno! Tesoro, sei qui? Oh no! La torta! Non volevo! Cattivo, hai rovinato la festa! Lasciatemi andare! È scappato! Oh, via libera! Principessa, sto arrivando! Dove sei? Segnale debole! Trovata! Vediamo! Ops! Eccolo! Sono scappato per un pelo! Devo continuare a cercare! Interessante! Penso di essere nel posto giusto! Diamo un'occhiata! Oh no! È in pericolo! Lascia stare, Catnap! Yuhuuu! Lali Lu, puoi aiutarmi? Non preoccuparti! Scegli uno strumento! Forma un cuore! Prepara i palloncini! Inserisci i bastoncini! Seleziona la pittura! Scrivi un messaggio! Prendi i brillantini! Applica uno strato di smalto! Avvolgili con un nastro! Ora direttamente dalla principessa! Ha funzionato! Oh tesoro! Mi sei mancato! Smettila di interferire! Cosa? Perché? Ti salverò! Stai bene? Non farlo! Lasciami andare! Stai bene? Andiamo! Non ti lascerò andare! Ehi! Devo fermarli! Sono troppo in alto! Non riesco a raggiungerli! Aiuto! Aspetta! Un lavoro per te! Guarda la principessa! Tra le braccia di qualcun altro! Lei è mia! Cosa c'è dentro? Un pennarello luminoso! Prendi una molla! Prendi uno spillo! Ottimo! Prepara i coperchi! Incolla il corpo! Taglia il dispositivo di fissaggio! Fermiamo Catnap! Ecco qui! Eccoli! Mani in alto! L'importante è non mancarli! Prendi questo! Non puoi prendermi! Non scapperai! Arrenditi! Oh no! Ops! L'auto si è rimpicciolita! Mi nasconderò dietro l'albero! Prendi questo! Preparati! Amore mio! Ti salverò! Nessuno ti salverà! Oh my God! Addio! Questa è la fine! Missione compiuta! Oh! Qualcuno ha perso qualcosa! Sono così carini! Li terrò! I miei giocattoli preferiti! Guarda una novità! Wow! Dog Day! Il miglior regalo di sempre! E noi! Lalilu salva Hoppy! Ok! Trasformiamo Hoppy in una ragazza! No! Good! Tingile i capelli! Fai asciugare! Wow! Il mio colore preferito! Lo provo! Wow! Metti leghette! Fatto! A scuola! Il mio armadietto! Tutto ciò che amo! Fantastico! Oh! Mi hai spaventata! Togliti di mezzo! Non sei la benvenuta qui! Ma perché? Metti mi piace per aiutare Hoppy! Lasciala in pace! Vai via, Dog Day! Ok! Stai bene? Grazie! È il mio eroe! Sono innamorata! Facciamo un diario! Ritaglia i pezzi! Piega a metà! Una copertina rigida! Aggiungi le orecchie! Incolla una foto! Il diario è pronto! La mia prima lezione! Ciao, bambini! Cominciamo la lezione! Oh, Bobby! Lancia un pezzo di carta Hoppy! Ok! Cos'è? Cos'è? Un diario! Vediamo! Lo dirò a tutti! Hoppy è innamorata di Catnap! Dammi il mio diario! Non piangere! Ti aiuterò! Ok! Ti prendo! Restituiscilo! Non lo farò! Non è tuo! E allora? Ecco! Prendi! Grazie! Puoi vederlo? Yes! Woohoo! Cambiamo look! Ottima scelta! Lava la faccia! Occhi verdi! Prendi un nastro! Sfila! Rimuovi l'eccesso! Prepara il bifle! Ucchi insieme i pezzi! Metti il distintivo! Fatto! Grazie, Lalilu! Oh! Appena in tempo! Una gara! Chi è il più veloce? Via! Oh! Quanto è veloce! Ho un'idea! Prendi questo! Ah! Che male! Sì! Sono prima! La migliore della scuola! Ora basket! Good! Tieni la palla! Ok! Uh! Wow! È fantastica! Ben fatto! Grazie! Che carini! Oh! Terribile! Ti piacciono i fiori? Scegli! Ok! Non mi piace niente! Non preoccuparti ha un'idea! Lalilu aiuto! Non mi piace niente! Non mi piace niente! Non mi piace niente! Non mi piace niente! Grazie.